Ehi, Giolemani, ragazzi, smettila, Mokhtar! Simon Daudi, il vostro professore di violino. Buongiorno. Qualcuno di voi conosce la musica classica? Volkan Amadeus Beethoven ha fatto quel pezzo. C'è l'indione. C'è l'indione. È un imbecille, un imbecille. Ma tu come sei finito qui? In che senso? Questo puzza. Quello che mi preme di più è che le resti con loro fino al concerto. Cambiare insegnante sarebbe destabilizzante. Ognuno resti al suo posto. Creiamo un clima pacifico, per favore. Non sono capaci di concentrarsi per più di 30 secondi. Stop, 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 per favore. Se non vogliono imparare, non devono restare. Che ci facevi qui? Stavo guardando un violino. E perché? Ti interessa? Sì. Ti spiace se ce n'è uno in più? Se è realmente interessato, perché no? Mi hanno proposto di andare in tournée per tre mesi. Ti sei impegnato a portarli alla filarmonica? L'hai dimenticato? Non ho ancora deciso. È dotato, Arnold. È portato per la musica. Stop, stop, stop. Suoni troppo vicino alla tastiera. Dovete rendere i vostri genitori fieri di voi. Uno, due, tre, quattro. È andato bene il tuo concerto? Sto lavorando con dei ragazzi. Mi sento più felice con loro. So che ce la farete. Conto su di voi, ok? Grazie. Grazie.